Ufficializzati i nomi dei candidati al Consiglio Provinciale, ieri alle 12 la scadenza dei termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni del prossimo 3 febbraio. 8 le liste in campo, di cui 4 in appoggio al presidente Michele Estrianese, 3 invece le liste di centrodestra con i tre partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che hanno presentato ciascuno una sua lista di candidati. Solo la lista provincia per tutti non si è schierata apertamente, seppur sia di orientamento di centrosinistra. Per ciò che riguarda nello specifico il territorio a sud di Salerno ed in particolare le aree del Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alburni, 12 in totale i candidati. Il Vallo di Diano può contare su tre nomi tra le liste presentate. Innanzitutto l'uscente Paolo Imparato, sindaco di Padule, già consigliere provinciale delegato alla viabilità e dal 2017 i trasporti, che viene riconfermato tra i candidati del Partito Democratico come riferimento per il Vallo di Diano. Nella stessa lista, per le altre aree, anche Maria Teresa Montesano di Torraca, Nicola Parisi di Buccino, Francesco Peduto di Bello Sguardo e Emilia Pulito di Sacco. Dei 16 nomi che compongono alla lista di Forza Italia solo Giuseppe Ruberto, consigliere del comune di Corletto-Monforte, in rappresentanza dell'area sud di Salerno e riferimento quindi anche del Vallo di Diano. Nella lista del Partito Socialista Italiano, doppia candidatura a San Giovanni Appiro, con i candidati sia il vice sindaco del comune Pasquale Sorrentino e sia la consigliera Paola Di Muro. Due candidati del territorio nella lista di Fratelli d'Italia, con il Vallo di Diano e Tanagro, rispettivamente rappresentati da Giovanni Graziano di San Pietro al Tanagro e Francesco Perretta di Salvitelle. Anche la Lega presenta un suo candidato per il territorio con il consigliere comunale di Roscigno, Bruno Ruotolo, in rappresentanza del territorio del Vallo di Diano, oltre che degli Alburni. Altro candidato del Vallo di Diano lo troviamo nella lista al centro per i territori, dove a rappresentare l'area sud di Salerno è stato inserito il consigliere comunale di Buonabitacolo, Elia Garone. Domenica 3 febbraio tutti i consiglieri comunali della provincia di Salerno saranno quindi chiamati alle urne. Le operazioni di voto si terranno al seggio allestito presso la sede della provincia di Salerno, con urne aperte dalle ore 8 alle ore 20.